Amici e amici di Divisione Calciacinque benvenuti, siamo pronti al pallo Taurus di Lecco, pronti a raccontarvi la sfida fra Lecco Calciacinque e Domus Bresso, valida per l'undicesima giornata del Girona di Serie B. Il vostro Daniele Laspina si guarda attorno poi la palla per Surace che col pallone di ritorno resta lì, il pallone rapace, Dragone mette a segno il primo gol di questa partita, in realtà credo l'intenzione fosse premiare un inserimento di seggio invece dall'altra parte, ribaltamento di fronte, arriva il reddoppio di Luigi Marrone. Moia, la conclusione di potenza, traiettoria che inganna Zamburlin ed è il 2-1 di Lecco, non si fa sorpassare dal pallone, Giacobuzio prova a metterci la velocità, poi allarga il pareggio dell'Ecco. E' l'Ecco che adesso vuole provare a chiudere in avanti questa prima frazione, la palla per Moia, il volo! Incredibile, ancora lui! E che gran gol di Walter Moia stavolta! L'Ecco che vuole provare invece a continuare il filo non interrotto nell'ultima partita, la vittoria di Chiavari e poi il successo anche con Bergamo. Occhio però! Al contropiede, Sassu riesce a servire Marrone, che arco alla traiettoria e tre pari al Palataurus. Sassu prova a far da solo, allarga adesso per il gol! Eccolo qui di Matteo Di Biasi! Eccolo qua, Surace, appena entrato, liberato, si perde il pallone, la riesce a accomodare però a Sassu. Ancora vada a Surace che prova a mettere il pallone in mezzo, respinto, Surace ancora per Di Biasi che mette dentro il tappin del 3-5! 3-5 finisce con la rimonta firmata a Moio Jacobuzio che non serve, non basta! Siamo qui con Matteo Di Biasi. Matteo, allora, una gran partita, due gol ma soprattutto una vittoria importante in una sfida che era insidiosa per voi. Sì, è stata una partita combattuta, al primo tempo siamo andati in difficoltà, comunque eravamo in vantaggio, poi abbiamo fatto un po' di fatica. Siamo entrati bene dallo spogliatoio e alla fine abbiamo portato a casa i tre punti che sono fondamentali per il nostro cammino. Siete cresciuti forse sulla distanza, avete fatto un buon avvio, poi vi siete un po' persi nella ripresa però siete tornati e soprattutto hai trovato due gol fondamentali. Sì, sono contento per i gol ma soprattutto per la prestazione della squadra perché ci porta ad affrontare la trasferta di Cagliari gennaio che è una partita molto importante per giocarci e comunque il primo posto. Allora, grazie mille in bocca al lupo. Grazie, arrivederci. Siamo qui con Mr. Marquez, allora una sconfitta che indubbiamente fa male anche per come è arrivata. È vero, il ragazzo si è comportato bene durante tutta la gara, abbiamo perso subito un giocatore importante, dopo la nostra rosa è una rosa che sta piccola, quindi fu difficile la gara, è una bella partita comunque, complimenti a Brescia, c'è una bella squadra. Cioè però ci sono molti elementi positivi che salva da questa partita? Devemo seguire a lavorare con tranquillità perché siamo una squadra joven e comunque perder in casa sempre non è buono. Grazie mille, mister. Grazie a te, grazie a te.